Hai voglia di qualcosa di buono? Oh, sì! Qualcosa di succoso? Coraggio! Ciao, bellezza. Cosa? Qualcosa di carnoso. Un hamburger sexy! Che sta succedendo? Tadà! Hamburger bollenti! Sexy hamburger! Che c'è estate? Sesso vende tesoro. Grandi cose per l'estate di Tino. Togliti quei ginsingombranti, sarai più aerodinamico. Oh, lo stavi già facendo. Grandi come le irritazioni da calore che ti vengono. Più grandi. State giù e seguitemi. Questo! Venite a vedere! Che mi dici di cosa? Solo il sussulto, va bene. Ti ringrazio. Così? Direi che ci siamo. L'ultimo era buono. Fermi! Ok. Non è quello che mi aspettavo. Rock the boat! Io mi occupo del marketing, ho preso il costume da hamburger di Gwin, ho scoperto un po' Linguine e bam! Un hamburger in bikini? Geniale! Ho capito, non faccio domande. Pêgino! essere costato un numero! Non bello! Se tried ascoltarlo. i stup эти engagement? Non so si chiari per questa maniera! Non so si chiari per questa maniera! lo stupi legato! E allora è un ultimi ritmasteri dell'infuente! Che si è detta finita... la cosa?